amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo di un drammatico incidente uno degli incidenti più tremendi di questo 2021 un gruppo di motociclisti sulla strada che porta da frosinone a terracina sono stati coinvolti in un tremendo incidente tre persone sono morte sul colpo altre tre purtroppo sono in fin di vita nelle prossime ore nei prossimi giorni comunicherò ulteriori sviluppi